La voce della donna abbia un peso reale, una torevolezza riconosciuta nella società e nella Chiesa. Papa Francesco ha formulato così il suo auspicio in occasione del convegno Donne nella Chiesa, prospettive in dialogo, organizzato nei giorni scorsi dall'Ambasciata della Repubblica del Cile presso la Santa Sede e dalla Pontificia Università Antonianum guidata da un rettore donna, Suor Mary Melone. E lei, insieme con la prima donna ambasciatore del Cile, Monica Emenes de la Hara, l'anima di questa importante riflessione che oggi nella Chiesa è sentita come un'urgenza. È urgente perché è sempre più chiaro che la donna può dare un apporto con la sua realtà, con il suo pensiero, con la sua operosità. Però vorrei sottolineare che non si tratta solo di una questione di ruoli o di cariche da raggiungere, anche se questo è significativo. Che la donna assuma delle responsabilità può contribuire ovviamente a un'apertura, a un arricchimento della Chiesa, delle strutture chiesali, ma la Chiesa non è solo questione di ruoli, questione di cariche. È proprio il vissuto, è l'autorevolezza della donna, della sua voce, della sua esperienza, del suo dono che deve essere appunto valorizzato all'interno della Chiesa. È urgente che le donne trovino uno spazio che hanno sempre avuto, ma poco riconosciuto. La giornata di studio è stata dunque uno spazio di riflessione, non tanto sulle criticità degli anni passati, nei quali la donna nella Chiesa è stata una presenza invisibile, come ha sottolineato una delle relatrici, la teologa Cettina Militello, quanto un approfondimento sulle nuove modalità per rendere la presenza femminile più autorevole. Un modo per seguire così l'appello del Papa a dare vita ad una teologia della donna. Il Papa ricorda che per esempio il ruolo della donna è imprescindibile nella famiglia, noi sappiamo che non si tratta di ritornare a dei ruoli, diciamo così, a degli stereotipi che assegnano alla donna, ecco il focolare, eccetera, ma il riconoscimento anche di una preziosità del suo essere donna. Le donne portano forse un'attenzione maggiore alla relazionalità in tutti i campi. Le relazioni hanno sempre più un posto prioritario nel modo di concepire oggi la vita e forse su questo la donna ha molto da insegnare. Dello stesso avviso Flaminia Giovannelli, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che ha moderato un dibattito sulle donne nella Chiesa nel mondo, ospitando interventi di religiosi e laiche provenienti da tutti i continenti. In genere le donne hanno uno sguardo un po' più onnicomprensivo, olistico si dice oggi nel nostro, così in un gergo un po' internazionale e credo che questo è molto importante per le questioni che hanno a che vedere con i problemi del mondo, con i problemi della globalizzazione. Ecco, questo saper mettere insieme, spaziare su vari argomenti, avere una visione di insieme più generale, però è comunque una caratteristica secondo me femminile che dà un aiuto in più. Una particolare caratteristica che Papa Francesco ha cercato di sottolineare, riportando in primo piano la questione femminile, invocando per le donne nuovi spazi nella Chiesa.